Di Joseph Conrad, La linea d'ombra. Voce di Lorenzo Pieri. Capitolo primo. Seconda parte. Al mio bussare rispose un biascicare annoiato e querulo. Oddio, oddio, che cosa c'è ora? Entrai senza esitare nella stanza. Era perlomeno inusuale trovare una camera del genere ai tropici. Era immersa nella penombra e vi regnava un'aria pesante. L'amico aveva attaccato alle finestre tendine di pizzo molto ampie, piene di polvere e a buon mercato. Molte scatole di cartone, del tipo di quelle impiegate in Europa dalle modiste e dalle sarte, erano ammassate negli angoli. Inoltre il nostro uomo si era procurato in qualche modo il tipo di immobilia che avrebbe potuto provenire da qualche rispettabile salotto dell'istand londinese, un divano imbottito di crine di cavallo e poltrone dello stesso tipo. Osservai sulle spaliere di quei mobili di pessimo gusto delle sudice fodere. Il tutto incuteva un certo rispetto in quanto non si poteva immaginare per quale misteriosa ragione, bisogno o fantasia quelle cose fossero state messe insieme. Il loro proprietario si era tolto la giacca e in pantaloni bianchi e maglietta a maniche corte si aggirava dietro gli schienali delle poltrone, accarezzandosi i magri gomiti. Quando seppe che ero venuto per fermarmi emise un'esclamazione di disappunto, ma non poté negare che distanze vuote ce n'erano in abbondanza. Benissimo, può darmi quella dell'altra volta. Da dietro le scatole di cartone che erano sulla tavola e che forse un tempo avevano contenuto guanti o fazzoletti o cravate, udì un flebile lamento. Mi chiedo ancora cosa tenesse dentro quelle scatole, ma nella stanza c'era un tanfo di corallo in putrefazione o di polvere orientale e di esemplari zoologici. Potei solo intravedere la sommità del suo capo e gli occhi melanconici piantati su di me, oltre quella barriera. «È solo una questione di un paio di giorni», dissi nell'intento di tranquillizzarlo. «Le dispiacerebbe pagare in anticipo», propose con una certa ansia nella voce. «Non ci penso nemmeno», esplosi appena ritrovata la parola. «Mai sentito una simile bestialità, diavolo, che razza di faccia tosta!» Si prese il capo fra le mani in un gesto di disperazione che attenuò la mia ira. «O Dio, oddio, non si arrabbi. È una richiesta che faccio a tutti!» «Ne dubito», dissi seccamente. «Beh, d'ora innanzi lo farò e se voi signori accettaste di pagarmi in anticipo, riuscirei a far pagare il conto anche a Hamilton. Quando torna a terra è sempre senza un penny e quando ha qualche soldo si rifiuta sempre di saldare i conti. Proprio non so come comportarmi con lui. Mi insulta e dice che non posso buttare un bianco in mezzo alla strada. Così, se solo volesse...» Ero a dir poco senza parole, non volevo crederci. Pensai ad una gratuita impertinenza da parte di quell'ometto. Gli risposi che avrei preferito piuttosto vedere lui e Hamilton sulla forca e lo invitai ad accompagnarmi alla mia stanza senza mannirmi altre sciocchezze. Allora estrasse da non so dove una chiave e mi fece strada, abbandonando la sua tana e lanciandomi nel passare un'occhiata diffidente. «C'è qui qualcuno che conosco?» domandai prima che lasciasse la mia stanza. Aveva riacquistato il suo tono lamentoso e stizzito e mi informò che c'era il capitano Gilles appena tornato da un viaggio nel mare di Sulu. C'erano poi altri due ospiti, tacque per un attimo, e naturalmente Hamilton aggiunse. «Oh già, Hamilton!» dissi e il tapino si allontanò con un ultimo borbottio. Quando all'ora di colazione entrai in sala da pranzo, ero ancora risentito per la sua sfacciataggine. Era lì al lavoro, a sorvegliare i domestici cinesi. La colazione era apparecchiata solo ad un'estremità del lungo tavolo e il punka smuoveva lentamente l'aria torrida, per lo più sopra quella distesa di legno lustro. Eravamo in quattro a tavola. Uno era lo sconosciuto che avevo visto sonnecchiare sulla poltrona. Ora teneva semi aperti gli occhi, che però sembravano non vedere nulla. Si dondolava. Accanto a lui c'era un personaggio dall'aria affettata, con le basette corte e il volto sbarbato. Naturalmente era Hamilton. Non ho mai visto nessuno così contegnoso e così compiaciuto per la posizione che la provvidenza gli aveva concesso nella vita. Mi avevano detto che mi considerava solo un outsider. Allo rumore che feci tirando la sedia per accomodarmi al tavolo, non alzò, non dico gli occhi, ma nemmeno le sopracciglia. Il capitano Gilles era a capotavola. Scambiai con lui qualche convenevole e sedetti alla sua sinistra. Corpulento e pallido, con una calvizie che ricordava una cupola allucente e gli occhi scuri sporgenti, sembrava tutto meno che un uomo di mare. Se si fosse presentato come architetto, nessuno avrebbe trovato da ridirvi. A me, e so che può sembrare assurdo, sembrava un sacrestano. Aveva l'apparenza di un uomo dal quale sarebbe stato possibile avere giudiziosi consigli, pareri immorali, magari con l'aggiunta di qualche luogo comune, dettato non dalla voglia di far colpo, ma da una sincera convinzione. Malgrado fosse ben noto e stimato nell'ambiente marittimo, non aveva un lavoro fisso. Non lo voleva. Aveva una sua posizione particolare. Era un vero professionista, un esperto, come dire, in navigazioni difficili. Si riteneva che conoscesse meglio di qualsiasi altro le parti più remote dell'arcipelago, appena assegnate sulle carte nautiche. Il suo cervello conteneva un ordinato magazzino di diverse scogliere, di posizioni, rilevamenti, caratteristiche dei promontori, profili di coste sconosciute, di innumerevoli isole, deserte o no. Tutte le navi, per esempio, dirette a Palawan o in luoghi simili, avrebbero voluto avere a bordo il capitano Gilles, o per un comando temporaneo, o per assistere il capitano. Correva voce che percepisse un stipendio fisso da una grande compagnia cinese di navigazione, per eventuali prestazioni di questo tipo. Inoltre, era sempre pronto a dare il cambio a chi desiderasse prendersi qualche giorno di ferie a terra. Che io sappia, nessun armatore aveva trovato a ridire su questi accomodamenti. Era infatti opinione molto diffusa che il capitano Gilles valesse quanto i migliori del suo campo, se non di più. Ma per Hamilton restava anche lui un outsider. Penso che per lui, nella generica definizione di outsider, rientrassimo tutti, anche se credo che nel suo intimo facesse qualche distinguo. Non tentai nemmeno di avviare una conversazione con il capitano Gilles che non avevo visto più di due volte in vita mia. Naturalmente sapeva chi ero. Dopo un po', voltando il testone lucido dalla mia parte, attaccò discorso per primo, cordialmente, come era sua abitudine. Avendomi visto lì, mi disse, immaginava che fossi sbarcato a terra per un paio di giorni di licenza. Parlava in toni bassi. Alzando un po' il timbro della voce, gli risposi che no, avevo abbandonato la nave per sempre. «Libero per un po' di tempo», commentò lui. «E' proprio così, dalle undici di oggi», replicai. Sentendoci parlare, Hamilton aveva interrotto la sua colazione. Depose lentamente il coltello e la forchetta. Si alzò, borbottò qualche cosa su questo caldo infernale che manda via l'appetito, e uscì dalla stanza. Lo udimmo scendere i gradini della veranda e andare via quasi subito. A questo punto il capitano Gilles commentò che certamente l'amico era andato via per cercare di avere il posto che avevo lasciato. Il capo cambusiere, che se n'era stato sino ad allora appoggiato alla parete, si avvicinò al tavolo con la sua faccia da capra infelice, rivolgendosi a noi con il solito tono lamentoso. Continuava a lagnarsi di Hamilton. Proprio per i suoi conti mai saldati, aveva continui guai con la capitaneria del porto. Sperava proprio che potesse avere il mio posto, anche se non credeva che questo avrebbe cambiato la situazione. Nel migliore dei casi un sollievo provvisorio. Dissi, non ci pensi nemmeno, il mio posto è già stato preso, il mio successore è già a bordo. Ne fu sorpreso e mi sembrò che a quella notizia si immusunisse di più. Il capitano Gilles rise sommessamente. Ci alzammo e uscimmo sulla veranda, lasciando lo sconosciuto ciondolante alle cure dei domestici cinesi. Vidi da ultimo che gli avevano depositato davanti un piatto con una fetta di ananas e si erano allontanati di qualche passo, osservando con curiosità le sue reazioni. Ma l'esperimento non diede alcun risultato e il nostro uomo continuò a sonnecchiare. Il capitano Gilles mi informò a bassavoce che era un ufficiale del panfilo di qualche rajà ancorato nel nostro porto. Deve aver fatto qualche baldoria la notte scorsa, aggiunse arricciando il naso con un'aria confidenziale che apprezzai molto. Il capitano Gilles aveva un gran fascino personale. Gli si attribuivano avventure straordinarie e qualche misteriosa tragedia, ma nessuno aveva niente da dire contro di lui. Continuò, ricordo ancora la prima volta che sbarcò in questo porto. Era qualche anno fa e mi sembra ancora ieri. Era un bel ragazzo. Oh, questi bei ragazzi! Non potei fare a meno di ridere. Mi guardò con meraviglia. Poi rise anche lui. «No, no, non intendevo!» esclamò. «Intendevo che qui alcuni di loro si infiacchiscono troppo in fretta». In tono scherzoso gli feci rilevare che la causa principale era il caldo infernale, ma il capitano Gilles mi diede una versione di una filosofia più profonda. In Oriente i bianchi avevano una vita facile ed era logico. La difficoltà stava per loro nel continuare a vivere da bianchi e alcuni di questi ragazzi non ci riuscivano. Mi diede un'occhiata scrutatrice e con tono benevolo, quasi paterno, mi chiese a bruciapelo «Perché ha abbandonato l'imbarco?». Mi infuriai di colpo. Capirete come fosse esasperante per me una domanda simile, alla quale non sapevo come rispondere. Dissi a me stesso che avrei dovuto tappare la bocca a quel moralista. A lui, alzando la voce, risposi con insolente affabilità «Perché non approva?». rimase interdetto. Mormorò solo un po' incerto «Io, generalmente…» e non mi chiese più nulla. Si ritirò in buon ordine salvandosi con la battuta banalmente giocosa che anche lui stava ramollendosi e che a quell'ora, quando era a terra, schiacciava un pisolino. «Pessima abitudine, davvero pessima abitudine». Il suo ingenuo candore avrebbe disarmato anche una permalosità più giovanile della mia. Perciò il giorno dopo, a colazione, quando mi si avvicinò per dirmi che la sera prima aveva incontrato il mio capitano e aggiunse a bassa voce «Gli dispiace molto che lei se ne sia andato. Non aveva mai trovato un secondo che gli andasse così a genio». Gli risposi con sincerità, senza complimenti, che anch'io non ero mai stato tanto bene come su quella nave e con quel comandante in tutta la mia vita di marinaio. «Ma allora», borbottò, «non ha ancora afferrato, capitano Gils, che voglio tornare a casa?» «Sì», disse affabile, «cose del genere le ho sentite tante volte in passato». E con questo, replicai, lo giudicavo in quel momento l'uomo più ottuso, più privo di fantasia che avessi mai incontrato nella mia vita. Non so che altro gli avrei detto se allora non fosse entrato Hamilton. Era in ritardo e prese il suo solito posto. Borbottai a bassa voce «questa volta però lo vedrà anche fare». Hamilton, perfettamente sbarbato, fece un rapido cenno di saluto al capitano Gils, ma non degnò me nemmeno di uno sguardo. E quando aprì bocca, fu solo per rimproverare il capo cambusiere. Non era lecito servire a un gentiluomo una vivanda come quella che aveva servito nel suo piatto. L'infelice apostrofato non ebbe nemmeno la forza di rispondere. Si limitò ad alzare gli occhi al punka e fu tutto. Il capitano Gils e io ci alzammo da tavola e lo sconosciuto che era seduto accanto a Hamilton fece lo stesso, manovrando con difficoltà per mantenere l'equilibrio. Povero diavolo! Aveva fatto quanto era nelle sue possibilità per ingurgitare un po' di quell'indegno cibo, non perché avesse appetito, ma all'unico scopo di darsi un contegno. Ma dopo aver lasciato cadere due volte la forchetta e sentendosi a disagio, era rimasto seduto immobile, con un'aria molto mortificata e uno sguardo vuoto, quasi attonito. A tavola, sia io che Gils evitammo di guardare verso di lui. Arrivato sulla veranda, si arrestò di colpo, per rivolgerci in tono concitato un lungo discorso di cui non riuscì a capire una sola parola. Ma quando il capitano Gils, dopo qualche attimo di riflessione, gli rispose in tono affabile, sicuro, certamente, ha perfettamente ragione. Sembrò rasserenato e ci lasciò camminando abbastanza dritto, per raggiungere una poltrona a sdraio un po' appartata. Ma che voleva dire? chiesi nauseato. Non lo so, non bisogna mai essere spietati verso il prossimo. È già abbastanza infelice per conto suo, può esserne sicuro, e starà ancora peggio domani. A giudicare da quello che vedevo mi sembrava difficile. Mi chiesi quali contorti stravizi avessero ridotto quell'uomo in uno stato simile. L'atteggiamento benevolo del capitano Gils era rovinato da una strana aria di compiacimento, che finì per infastidirmi. Dissi, sorridendo, beh, c'è sempre lei ad assisterlo. Fece un gesto, come per respingere quell'ipotesi, sedette e prese un giornale. Lo imitai. I giornali erano vecchi e senza interesse, pieni per di più di monotone e banali descrizioni, delle celebrazioni per il primo giubileo della regina Vittoria. Ci saremmo probabilmente lasciati andare al solito dormiveglia dei pomeriggi tropicali se la voce di Hamilton, che stava finendo di far colazione, non si fosse fatta sentire. Le grandi doppie porte rimanevano sempre completamente spalancate e Hamilton non poteva immaginare che eravamo seduti vicino all'entrata. Lo udimmo rispondere in tono sprezzante e arrogante ad una richiesta avanzata dal capo cambusiere. Non mi piace essere forzato a fare qualcosa che non desidero. Saranno contenti di avere un gentiluomo, immagino. Non c'è fretta. Seguì un lungo bisbiglio da parte del capo cambusiere. Poi udimmo ancora Hamilton, che in tono ancora più sprezzante, diceva «Cosa? Quel giovane somaro che si crede chissà chi per essere stato a lungo il secondo di Kent? Assurdo!» Gilles e io ci guardammo. Kent era il nome del mio ex capitano. Gilles mi bisbigliò «Sta parlando di lei!» Ma la sua informazione mi sembrò fiato sprecato. Il capo cambusiere doveva essere rimasto sulle sue posizioni, quali che fossero gli argomenti di Hamilton, perché sentì quest'ultimo, che diceva con sempre maggiore arroganza e, se possibile, con maggior calore «Sciocchezze, caro mio! Non ci si mette in concorrenza con un volgare outsider come quello! C'è sempre tempo!» Poi avvertimmo un trascinare di sedie, passi e lamentose proteste del capo cambusiere, che stava inseguendo Hamilton fino all'aperto, oltre l'ingresso principale. «È un gran maleducato!» commentò il capitano Gilles. «Superfuo!» pensai. «Un gran maleducato! Le è capitato di offenderlo in qualche modo!» «Mai parlato con lui in vita mia!» risposi in tono burbero. «Non riesco nemmeno a capire cosa voglia dire quando parla di concorrenza. Ha cercato di farsi dare il posto che ho lasciato, ma evidentemente non c'è riuscito. Ma che c'entra questo con la concorrenza?» Il capitano Gilles scosse meditabondo il suo cordiale testone. «No, non c'è riuscito!» ripeté lentamente. «No, non sarà facile con Kent. Kent è ancora molto dispiaciuto che lei lo abbia lasciato e la ritiene un buon marinaio.» Buttai il giornale che tenevo ancora in mano. Mi alzai di scatto e battei sul tavolino con la palma aperta. Volevo sapere perché il capitano insistesse tanto sull'argomento, che era una mia questione assolutamente personale. Finiva proprio per essere esasperante. Il capitano Gilles mi indusse al silenzio con la tranquilla serenità del suo sguardo. «Non è il caso di arrabbiarsi!» mormorò flemmatico con l'evidente desiderio di calmare l'esasperazione infantile che aveva suscitato con le sue chiacchiere. E infatti era un uomo dall'atteggiamento così innocuo che appena potei cercai di giustificarmi. Gli dissi che non desideravo più sentir parlare di quello che era accaduto e che per me era morto e sepolto. Il passato era stato bello, ma ora che lo avevo alle spalle preferivo non tornarci sopra e neppure pensarci. Ormai avevo deciso di rientrare a casa. Ascoltò l'intera tirata in uno strano atteggiamento, quasi tendendo l'orecchio come a cercare di trovare qualche nota stonata nelle cose che dicevo. Poi si alzò e sembrò meditare con attenzione sulla questione. «Sì, mi aveva detto che pensava di tornare a casa. Ha già qualcosa in vista là». Invece di rispondergli che questi non erano affari suoi, dissi turbato, «Niente che io sappia». In effetti, avevo già valutato questo aspetto piuttosto oscuro della situazione in cui mi ero cacciato, e che io stesso avevo determinato lasciando all'improvviso il mio più che soddisfacente lavoro. E non ne ero troppo soddisfatto. Avevo una gran voglia di dire a Gilles che il buonsenso non aveva nulla a che vedere con quello che avevo fatto e che quindi questa faccenda non era degna dell'interesse che gli attribuiva. Ma ora Gilles stava fumando la sua pipetta di legno e sembrava così inoffensivo, ottuso e banale, che non valeva la pena di protestare nei suoi confronti opponendogli la verità o il sarcasmo. Emise una nuvola di fumo, poi mi colse di sorpresa con un pungente «ha già versato i soldi per il viaggio». Sopraffatto dall'impudente ostinazione di un uomo, al quale era difficile rispondere sgarbatamente, risposi con amabilità esagerata di non averlo ancora fatto. Pensavo che avrei avuto il tempo necessario per farlo l'indomani. E stavo per andarmene, sottraendo la mia privacy ai suoi futili e vani sforzi di cercare di conoscerne la sostanza, quando Gilles depose la pipa con un gesto molto significativo, capite, come se finalmente fossimo arrivati al punto centrale, e si sporse da un lato sulla tavola che ci separava. «Ah, non ha ancora pagato!» abbassò la voce con fare misterioso. «Bene, allora credo che debba proprio sapere che qui sta accadendo qualcosa».